Ora la battaglia passa in commissione e in consiglio, ora la salute torni a essere un diritto. È il commento del capogruppo del PD in consiglio regionale per Francesco Maiorino, dopo che l'ufficio di presidenza ha deliberato l'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma della sanità lombarda. La raccolta firme, lanciata a fine febbraio, ha fatto registrare più di 100.000 adesioni. Il dibattito dovrebbe approdare in aula nei prossimi mesi. Per Maiorino, il servizio sanitario regionale va riportato sui giusti binari. Stante il regolamento dovremmo arrivare in aula nei prossimi mesi e il consiglio regionale non potrà far finta di nulla, anche la giunta, anche Fontana e Pertolaso non potranno più continuare con mezze frasi o annunci che poi vengono radicalmente smentiti. Penso ad esempio alla vergogna del centro unico di prenotazione, tante volte annunciato e sempre al palo. In Lombardia sono in continuo aumento le persone che rinunciano alle cure o che sono costrette a pagare di tasca propria visite ed esami, sottolineano i DEM, a causa di tempi d'attesi inaccettabili che compromettono le possibilità di cura. Ma tra i problemi c'è anche quello della carenza di medici e infermieri in ospedale, sul territorio e di tanti altri operatori della salute. Ci sono servizi territoriali ben lontani dal garantire i livelli essenziali di assistenza, servizi per la prevenzione e la riabilitazione che raggiungono sempre meno persone, e una carenza di programmazione di governo, dell'offerta pubblica e privata accreditata. E tutto ciò concludono dal PD, nel mancato rispetto di quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione, ovvero la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Io credo che si debba cambiare tantissimo in relazione alla sanità lombarda, siamo di fronte a un ricatto persistente. Si dice ai lombardi volete farvi curare, pagate, e questo è inaccettabile. Le liste d'attesa sono una vergogna, un'occasione indubbiamente per alcuni per fare un po' di profitto, ma c'è un tema proprio di riorganizzazione radicale del sistema a partire dall'interesse pubblico, che oggi non viene tutelato a sufficienza. La nostra proposta di legge di iniziativa popolare, che oltre 100.000 lombardi in più modi hanno sostenuto e firmato, va nella direzione proprio di cambiare radicalmente le cose, per rimettere al centro la sanità pubblica, la sua ricostruzione, la medicina territoriale, i consultori, l'assistenza domiciliare, la prevenzione, tutto ciò che magari fa meno profitto, ma che garantisce più salute.